sono io? si sono io, aspetta che mi guardo un po' meglio, si sono io Amos e Giordano, Gigi arriva alle 10 e mezza e K ovviamente Amos sta prendendo un caffè, no l'ha già preso e finalmente io entro nello studio di incisione e vediamo un po', ecco, qua abbiamo un tecnico che somiglia, scusate le riprese traballanti, è un clone di Ringo Starr, bravissimo, molta classe, tranquillo, ottimista, un vero professionista, poi di fianco c'è una new enter, stagista, in posizione e qualcosa che vuole è la tua, è un secondo qui va iniziare, ok, che vuole Buona trenta. Grazie a tutti Sono Gianni Bonham, buonasera Gigi, dico ah che stronzata 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 Gigi, dico ah che stronzata